Tragedia gli scorsi giorni nella zona industriale di Fano, una donna è stata travolta ed è rimasta schiacciata sotto le ruote di un tiro in via Tognolo. Secondo quanto si apprende il conducente del mezzo pesante stava facendo retromarcia davanti a una lavanderia e non si è accorto della donna dietro al mezzo schiacciandola sotto le ruote. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco il 118, la polizia stradale, la polizia locale purtroppo ogni soccorso è stato vano, la donna è morta per trauma da schiacciamento.